Le impalcature sono sparite solo a un angolo, sono rimaste tre transenne per evitare che ci si avvicini a una parete. Ben poca cosa di fronte alla bellezza del Fortino, dove dopo una pausa di qualche giorno sono tornati i matrimoni. E che matrimoni? Questo ad esempio è quello dell'avvocato Filiberto Palumbo, ex del CSM, per il quale è arrivato a Bari il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Michele Vietti. Tra ospiti, vip e matrimoni meno blasonati, il Fortino è tornato a vivere. Gli sposini possono stare tranquilli, l'impalcatura è stata rimossa, sono stati effettuati alcuni piccoli lavoretti di consolidamento, ma in particolar modo per venire incontro proprio a chi aveva prenotato. I lavori al Fortino ricominceranno a ottobre e nel frattempo ci sono da smaltire ben 68 prenotazioni, il doppio rispetto allo scorso anno. I futuri sposi possono prenotare la data e scegliere in una short list di organizzatori di matrimonio l'allestimento che preferiscono. Pagando, ma non cifre iperboliche, il Comune ci mette 200 euro che servono a coprire spese di personale e pulizia. Un investimento lo definisce l'assessore perché il ritorno d'immagine è ottimo. Su 70 prenotazioni 15 provengono da fuori Bari, tra questi ci sono matrimoni dalla Germania, Spagna e Russia.